tornano i video in macchina anche i video misteriosi nelle tenebre per parlare di piove e quindi aggiungere un altro video alla rubrica in sala piove è il secondo film di paolo strippoli al suo attivo strippoli ha un un'opera prima piuttosto interessante a classic horror story uscita su netflix la regia era quattro mani con roberto de feo ed era un film che mescolava abbastanza felicemente a mio avviso i temi del detour alla non aprite quella porta con il folk horror alla wicker man ma frullato in modo decisamente originale così come ho trovato molto originale questo piove un film che nasce da una sceneggiatura originale di jacopo del giudice vincitrice al solinas nel 2017 poi rielaborata con gustavo hernandez e con lo stesso paolo strippoli il cast è efficacissimo ed è uno dei motivi di interesse del film il protagonista è fabrizio rongione un volto bellissimo secondo me un attore dalla grande presenza scenica anche un po disturbante diciamo adattissimo a ruoli appunto come come quello che effettivamente interpreta in questo film oltretutto presenza fissa del cinema dei fratelli d'ardenne rongione infatti è italo belga ma assolutamente strepitosa devo dire la performance del giovane attore che interpreta suo figlio cioè francesco gheghi che veramente da una recitazione quasi elettrica e da grande umanità alla scattante allo scattante dolore proprio di questo ragazzo vorrei citare anche aurora menenti la l'attrice bambina che interpreta la sorellina gli attori bambini sono sempre un po un'incognita e lei qui funziona alla grande e poi c'è anche ondina quadri che la figlia del montatore jacopo quadri che tra l'altro ricordiamo in un bel film di qualche anno fa ariana di carlo lavagna ma aveva una parte molto interessante con la sua presenza un po come dire gender fluid in un bellissimo film uscito l'anno scorso piccolo corpo di laura samana anche quello un film con accensioni non sicuramente non un horror però aveva diciamo così degli sconfinamenti nel sovrannaturale che lo rendevano molto affascinante piove racconta così di una un segmento diciamo di vita di questa famiglia devastata da un lutto cioè la morte della madre interpretata da cristiana cristiana dall'anna e del sostanzialmente della situazione di assedio di guerra non dichiarata che padre figlio instaurano in casa il padre capiamo che perde il lavoro vive sopravvive con lavoretti che lo sfiancano fisicamente tra i quali l'accudimento di un vicino di casa interpretato dall'indimenticato orso maria guerrini mentre il figlio trascura la scuola ormai vive allo sbando perde le amicizie e di questo ne risente la sorellina che è dopo l'incidente appunto nella quale la madre ha perso la vita è rimasta sulla sedia a rotelle non per una reale menomazione ma perché per un fatto psicologico su cui appunto tentano tenta di lavorare il padre con un'equipe medica siamo diciamo all'interno quindi di una di un horror che guarda anche al sociale ma lo scatenamento dell'orrore vero e proprio è dovuta a una sorta di gas benefico che nei giorni di pioggia emerge dai tombini romani roma in questo senso è protagonista assoluta del film filmata non diciamo nelle sue scorci più conosciuti ma quelli più periferici e con un grande uso anche degli interni diciamo a un certo punto ci sarà una piscina abbandonata nel film che è una intuizione scenografica a mio avviso molto molto intelligente e dicevamo questo questo questa sorta di vapore benefico scatena all'interno delle persone il risvegliarsi dei rancori e degli odi sopiti è un po' come se tutto ciò che il non detto ecco che avvelena la nostra vita prendesse forma e costringesse le ci costringesse a dati di violenza che vengono diciamo visivamente messi in scena da un fluire di umori oscuri non proprio sangue ma quasi una una sorta di liquido oleoso del petrolio che scende da tutti gli orifizi delle persone imbrattandoli imbrattando ciò che sta loro attorno è una anche un'invenzione visiva interessante che ci riconduce a certi territori meno battuti forse dalla nostra cinematografia penso a certo j horror che fin dai titoli no pensiamo a the garage no fin dai titoli fanno riferimento ai sentimenti che sono la prima arma con cui il male colpisce le persone in questo senso penso che paolo strippoli come aveva fatto anche poi insieme a de feo in classic horror story non non guarda pedissequamente alla tradizione del nostro horror anzi forse la ignora il suo è un horror che veramente si muove su territori internazionali infatti senza voler ingigantire i meriti di piove che è un bel film non è un capolavoro è un bel film e già questo comunque una cosa di capitale importanza però diciamo si pone da pari con certe esperienze di cinema horror venute dall'estero e a mio avviso è anche superiore a tante cose che che vediamo penso così al cinema inutilmente a mio avviso inutilmente diciamolo pure inutilmente violento e se lo dico io che ritengo che la violenza sia un ingrediente assolutamente fondamentale di ogni horror o thriller ecco dicevo il cinema inutilmente violento di james wan stripoli secondo me è più bravo lo dico proprio molto molto tranquillamente cioè non un film come piove vale da solo tutta la saga di sov e cazzate torton porn varie perché è un film che comunque costruisce con grande intelligenza dei personaggi e delle dinamiche all'interno delle loro relazioni sono bellissime le sequenze del giovane appunto francesco che così si muove in questa in questa roma del tutto indifferente al al suo dolore compie gesti di vandalismo insomma ci fa sentire veramente tutto il portato della sofferenza che può provare un adolescente così come restando sempre su questo personaggio è bellissimo anche il il rapporto con con la prostituta cioè a un certo punto vediamo che lui va a fare l'amore con una prostituta con cui si con cui c'è nel senso lui la paga lei fa il suo lavoro però si indovina che c'è un qualcosa di diciamo così un qualcosa di più una una qualche forma di affetto tra loro due magari dovuto anche semplicemente dalla consuetudine e la carta vincente insomma di stripoli secondo me è proprio il fatto di credere nei suoi personaggi di dirigere bene gli attori di riuscire a cavare da loro le sfumature giuste e di cedere alla no cedere di arrivare anche alla spettacolarità dell'horror penso alla prima e all'ultima sequenza la prima è ancora difficile da inserire in un contesto quindi abbastanza straniante e l'ultima invece che ci racconta una situazione di guerriglia urbana con i palazzi illuminati dai dai fuochi che occupano appunto anche i piani alti ed è visivamente molto potente ma è un finale che pur nel suo essere apocalittico non rinuncia alla speranza come vedrà chi insomma chi chi lo va a chi lo va a guardare e in termini di struttura la sceneggiatura di del giudice fernandez e strippoli è molto intelligente perché non ci racconta tutto subito ma lo fa dosando le informazioni nell'arco di 90 minuti che secondo me è sempre più il come dire la misura la misura principe del cinema ecco quella che ci permette di cioè se ben usata di dire tutto quello che serve dire senza ridondanze senza tediare e senza anche essere superficiali a mio avviso quindi è una bella sorpresa ecco questo piove è una bella sorpresa perché in diciamo in un panorama cinematografico italiano dove l'horror re negletto è chiaramente spostato ai piani bassi della distribuzione viene lo si vede con difficoltà sulle piattaforme spesso con opere diciamo così anche anche un poco poco riuscite sul piano tecnico ecco qui abbiamo un film invece che ha tutte le sue cose al posto giusto e soprattutto non si vergogna di essere quello che è cioè un horror a me pare che quando si affronti il genere spesso o sì come con freak out si debba per forza deviare nella commedia che è un po la croce delizia del nostro cinema oppure si fa finta di fare l'horror perché si vogliono dire si vogliono fare discorsi autoriali in realtà si fanno discorsi autoriali perché non si fa fare non si sa fare nell'horror nel noir invece stripoli nessuna di queste due cose fa un horror con anche un qualcosa da dire questo è molto bello e per chiudere dico soltanto che la diciamo così il comparto ecco degli effetti speciali che spesso sembra essere così la prima preoccupazione di chi si accosta all'horror al fantastico non è vistoso ma è efficacissimo ed è quanto si può più ritenere secondo me è la cosa di cui si può maggiormente essere grati a un film di questo di questo genere tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata